Ben tornati su Viola Elettrico. Stasera Viola Elettrico è arrivata e approdata a Borgo Carcio. Borgo Carcio che come tanti borghi della provincia latina e dell'interno del mattino porta il mondo in una battaglia cruciale della prima volta. Un po' al di là, con questa sua caratteristica storica e onomastica, Borgo Carcio ha scritto una meravigliosa campagna, coltivazione di frago, di chimio, di miele, c'è una nostra produzione di merda, ci sono anche molti agricoltori. L'estate, verso la fine, sul fine dell'estate, tra agosto e settembre, si svolge la festa della Madonna dei Campi. Quindi c'è un certo movimento, questo è un borgo molto frizzante, abitato prevalentemente da Veneti e generazioni successive, persone molto simpatiche e giudali. E quindi c'è la possibilità, a tutti gli effetti, di vivere una serata interessante, divertente, con stand e gastronomia di alto livello.